Simone, una sconfitta direi immeritata, siete partiti bene con un tuo gol, poi cosa è successo? Poi forse la paura di vincere che ci ha fregato diciamo, perché quest'anno purtroppo è un'annata abbastanza storta e quindi mentalmente non siamo pronti, perché siamo entrati come in un vortice e abbiamo paura di vincere, secondo me. Ti chiedo, vi ha spiazzato la strategia degli avversari di mettere spesso il portiere di movimento? No, eravamo pronti, il mister tutta la settimana che ci aveva avvertito di questa cosa, purtroppo le prime due tre azioni che hanno fatto con il portiere di movimento non siamo stati bravi a difendere noi, dopo abbiamo trovato l'inquadratura e quindi siamo andati un po' meglio, ma abbiamo prima subito due gol, purtroppo. È mancato un pizzico di fortuna, soprattutto nel finale con il loro portiere che si è reso protagonista di parecchie parate importanti. Sì, quest'anno sta girando un po' così, la fortuna ci ha voltato le spalle, purtroppo. E dall'andata che siamo stati fortunati in un'unica occasione contro il Foligno, abbiamo vinto quella partita, dopodiché sono andate tutte storte. Tra l'altro la prossima è proprio col Foligno. Speriamo che ci ripetiamo almeno col Foligno e riusciamo ad arrivare almeno a 6 punti.